Mattei a scuola, perché hai scelto di fare religione cattolica? Ho scelto di fare religione cattolica. Perché mi dà l'opportunità di confrontarmi e esporre le mie idee. Spesso facciamo dibattiti che ha crescido la mia curiosità. Conosco nuove culture, religioni e valori morali di vita. Ho imparato a conoscere il mio rapporto con Dio. Ho apprezzato molto i collegamenti con le altre materie discipline. Storia, filosofia, arte, bioetica, musica. Sono cresciuta personalmente attraverso la lettura del Vangelo. Perché è parte fondamentale della cultura occidentale. Per questo ho scelto la religione cattolica.